Una grande festa di condivisione e un omaggio al cuore pulsante della città. La pizzeria Oliva da Carle e Salvatore nel cuore della sanità ha festeggiato il suo decennale regalando dalle ore 11 alle 13 più di 500 pizze ai residenti del quartiere. L'evento, realizzato in collaborazione con l'Istituto Isabella d'Este Caracciolo, ha visto protagonista il forno a legna e le vasche per friggere, pronte a sfornare i capolavori della tradizione culinaria napoletana tra cui la celebre pizza fritta Donna Sofia, ispirata alla Loren e al suo ruolo nell'episodio Pizze a Credito del film L'Oro di Napoli. Le pizze sono state offerte ai residenti e ai tanti turisti incuriositi dagli allievi in alta divisa dell'Istituto Isabella d'Este Caracciolo, coordinati dal dirigente scolastico la professoressa Giovanna Scala. L'iniziativa, che ha avuto luogo in Piazza Sanità di fronte alla Basilica di Santa Maria della Sanità, è stato un regalo dei titolari Carla e Salvatore, due figli del quartiere che hanno deciso di condividere questa pietra miliare con la loro comunità. A realizzare le pizze sotto il loro sguardo c'erano i figli Ciro e Armando che con dedizione, competenza e professionalità seguono i sentieri tracciati dalla tradizione dell'arte di famiglia, gestendo con amore il locale.